Cos'è l'olfato? L'olfato è conoscenza. Può sembrare troppo sottile o volutile o impalpabile ma è un tipo di conoscenza unico, umano e veramente efficace che ha un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra biografia. La storia di ognuno di noi si racconta pure per l'odore, per l'olfato. Di solito pensiamo con quello che succede con la visione o l'udito. L'oggetto che vediamo sta all'esterno, sta lontano di noi. Anche quello rumore che siamo capaci di individuare. Infatti quando l'oggetto è troppo vicino dai nostri occhi non riusciamo a vederli. È una macchia che non trova la sua definizione. Allora esistono questi sensi della lontananza e esistono i sensi della fusionalità. Come il gusto, così l'olfato. Perché quando riusciamo a catturare un odore vuol dire che questo odore ci è caduto già addosso. Allora c'è una vicinanza, quasi un'intimità, che è molto importante per capire l'intensità, la forza, la singolarità di questo senso. E' interessante per esempio ricordare che nel primo mese della sua vita praticamente il neonato riconosce la madre per l'odore. E la certezza più forte che gli arriva della sua mamma è l'odore. In molti anni dopo le mamme si ricordano, mantengono nella testa, nel cuore, l'odore dei suoi bimbi. L'odore di un neonato è qualcosa indimenticabile. Walter Benjamin diceva una cosa molto interessante, che l'odore ci conferisce il privilegio della consolazione. Penso che una storia vissuta da tutti noi, un giorno all'improvviso, camminando per una strada o avvicinandosi da una finestra, ci arriva un odore. E quell'odore non abbiamo spiegazioni, ci fa viaggiare, viaggiare alla nostra infanzia, viaggiare a luoghi lontani, viaggiare all'incontro di persone, di situazioni. E nel nostro cuore catturiamo questa emozione, questa commuzione per una memoria che si sveglia attraverso l'odore. Il Papa Francesco, nella sua comunicazione molto diretta, molto prossima, ha catturato molto bene questo linguaggio, per esempio quando parla del bisogno che i pastori possano avere l'odore delle pecore. e tutti capiamo cosa vuol dire. Vuol dire che è un pastore impegnato, prossimo al suo popolo. L'odore ha diverse funzioni nella nostra vita. Una funzione importantissima è la protezione della vita. Infatti l'odore è un sensore vitale della più alta importanza perché ci protegge. l'odore è l'odore a bruciato, l'odore a gas, stiamo a casa o entriamo in un spazio, immediatamente capiamo qualcosa che non va. E quella informazione ci arriva per l'odore, per l'olfatto, anche con i cibi, con tutto quello che per noi è nutrimento. L'olfatto è veramente una chiave, è un criterio, sia buon odore vuol dire che mantiene la sua consistenza. Quando l'odore è cattivo sappiamo che dobbiamo astenersi. Perché usiamo noi i profumi, per esempio? Usiamo per rivelarsi o per nascondersi? È interessante che l'odore racconta una storia, racconta la nostra storia, è un elemento biografico importante. Come teologo mi sono interessato molto per un brano del Vangelo di Luca, Luca 7, 36, 50, che racconta l'ingresso di una intrusa, di una donna innominata, una peccatrice, in casa del fariseo quando sta lì Gesù per un pasto. E' molto interessante questo episodio lucano perché questa donna non dice nemmeno una parola. Allora il suo passaggio è completamente silenzioso, ma noi non dimentichiamo mai questo passaggio. Come riesce lei a rendere così indimenticabile la sua presenza? Infatti quello è rilevato da Gesù perché lei non parla ma porta un profumo. E quello profumo, con le sue lacrime, i suoi gesti, raccontano veramente una storia che va molto oltre le parole. E quella donna è una figura molto interessante perché nel retrotera del suo gesto c'è tutta una tradizione biblica perché veramente la Bibbia è un libro degli odori, è un libro per leggere con gli occhi ma con il naso. La Bibbia si legge con il naso, cercando gli odori, i suoi sensi, i suoi significati. Per esempio l'odore è la prima preghiera. Se pensiamo ai sacrifici, quelle nuvole di odori che salivano ai cieli. Quella era la preghiera di Israele. Il profeta Esichiele dirà che il popolo è l'odore di Dio. Il San Paolo dirà che noi siamo il buon odore di Cristo. C'è un libro prezioso a tutti i titoli nel canone del Vecchio Testamento, il Cantico dei Cantici, dove noi capiamo tutto questo perché è veramente una cartografia di odori. Possiamo chiudere gli occhi e continuare la lettura perché ascoltando quelle parole, quegli riferimenti a tutte le fraganze, a tutti i profumi, tutti gli alberi di frutto, tutti i colori, tutta la magnifica sensorialità di quello libro, e è l'olfatto che veramente ci conduce. Allora c'è una rivelazione che ci arriva per l'olfatto. Impariamo qualcosa di noi stessi e qualcosa importante di Dio per l'olfatto. E quello vuol dire sempre un rapporto molto vicino. Non è un rapporto astratto, mentale, consettuale. Il rapporto dell'olfatto è un rapporto il più vicino possibile. E quello è una linea importante anche per la costruzione di una riflessione teologica, la conoscenza che si costruisce per l'olfatto. Perché nell'olfatto c'è un'esperienza molto aperta, molto disponibile di ospitalità. E' un'accoglienza dell'altro. E noi riconosciamo non soltanto un'immagine, che tante volte è un'apparenza, è ancora la superficie, ma per l'olfatto noi andiamo fino a una profondità che ci dà tante, tante informazioni, informazioni importanti per capire la vita, la vita come la si manifesta. Oggi nelle nostre società, nelle nostre città, possiamo dire che la tendenza è un certo impoverimento dell'olfatto. Perché Freud parlava su questo? C'è una vigilanza, un controllo sociale molto forte sull'odore. E questo, che accade individualmente, accade pure collettivamente. Oggi, per esempio, è molto frequente entrare in un negozio e capire che l'odore è controllato. Ci danno a sentire un determinato odore. E questo vuol dire che il vero odore della vita, l'odore della realtà, alle volte è difficile arrivare alla sua verità più profonda, esattamente perché esistono tanti filtri, tante manipolazioni dell'odore nella società contemporanea. L'odore è sempre un'epifania. Manifesta una presenza, è un registro del vissuto, è qualcosa che possiamo capire come viscerale o come forse troppo intimo, ma è la carnalità della vita, è la dimensione dell'incarnazione della nostra umanità e quello è importantissimo, che possa essere oggetto della nostra sensibilità e della nostra riflessione. Marcel Proust, per esempio, diceva che alla fine di una vita lunga o breve vediamo partire e cambiare tante cose, vediamo le rovine delle nostre infanzie, del nostro passato, anche le stagioni che cambiano in continuazione, il mondo, il nostro mondo interno, il mondo esterno è fatto di movimento. E lui dice, esistono forse due cose che rimangano come referenti non solo del nostro passato, ma di una memoria che si fa a ogni istante presente. E questo è per il gusto, la petite Madeleine de Proust, ma anche per l'odore. L'odore nella sua essenzialità, possiamo dirlo, è un tesoro umano, umano fondamentale da costudire. Noi incontriamo nella letteratura un interesse molto grande per gli odori e è sempre un flusso di realtà che entra e che commuove il lettore quando troviamo in un romanzo, in un romanzo, in una poesia, un riferimento a un odore. E' sempre la possibilità, anche noi, di fare un viaggio, un viaggio interno. Ricordo quella poesia di Goethe che si domanda per l'odore dei limoni e la risonanza di questa poesia nella poetica di Montale che parla pure dei limoni. Ma molte volte nella poesia incontriamo tutti questi frutti, colori, situazioni, ricordi che alla fine hanno questa funzione di collegare il lettore a un odore silenzioso, segreto, vitale che lui porta per sempre dentro di sé. Ricordo un passo del Vangelo di Giovanni quando Gesù, dopo la risurrezione di Lazaro, è andato a Betania come invitato nella casa di quegli suoi amici. E una delle sorelle sparge profumo per accogliere l'ospite che è Gesù. E' molto bello che il narratore Giovaneo segna la situazione con questa frase e tutta la casa era riempita di quello profumo. Sembra una nota non necessaria che non aggiunge nulla alla rivelazione che è fatta in quell'episodio. E comunque io credo che questa nota non è gratuita, non è inutile perché ci ci collega a quell'effetto, a quella a quella conseguenza dell'arrivo di Gesù e della salvezza alla vita di ognuno di noi. E quando chiudiamo il libro ancora abbiamo in testa nel cuore l'immagine di quello profumo e nel silenzio della nostra casa come un brivido sentiamo che passa qualcosa e quello è il profumo di Dio. di Dio. di Dio. di Dio. di Dio. di Dio.